E' la prima edizione di un festival che mancava davvero in Veneto e a Venezia, un festival tutto dedicato ad Antonio Vivaldi, il prete rosso universalmente riconosciuto come grande innovatore della musica di tutti i tempi che ha ispirato secoli di musica e iniziare dal genio di Bach. Venezia, che è stata la sua casa e la sua musa ispiratrice per lunga parte della sua vita, finalmente rende apertamente omaggio a questo grande autore, uno dei più prolifici musicisti di sempre, con una iniziativa che si spera possa avere lunga e prospera vita e che nasce in un anno simbolico come quello del 1600 della fondazione della città. Simbolici, bellissimi e anche da riscoprire, i luoghi che ospiteranno i concerti a cominciare dalla prima con le quattro stagioni, una delle pagine più note della musica di sempre ma anche sempre straordinaria, nell'esecuzione dell'orchestra Vivaldi Festival alla Chiesa della Pietà, nota anche come Chiesa Vivaldi perché proprio qui nell'Ebrefotrofio Vivaldi compose molte delle sue pagine e si dedicò alla formazione e all'educazione, soprattutto musicale, delle giovani orfane. Alla Chiesa di San Giovanni in Bragora dove fu battezzato un omaggio al Vivaldi Sacro con le figlie del coro Orchestra Lorenza da Ponte, ma poi anche la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo e alcune delle più antiche scuole della città come la Scuola Grande di San Rocco e la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e poi l'Auditorium Lo Squero all'isola di San Giorgio. Tutti i grandi compositori hanno il proprio festival nella città in cui sono nati, ha spiegato Enrico Castiglione, regista e direttore artistico del Festival Vivaldi, già fondatore dei festival di Pasqua ed Euro Mediterraneo a Roma e del Bellini Festival a Catania. E sebbene questi patri della musica non abbiano bisogno di vetrine, il fatto che fin dalla sua prima edizione il Festival Vivaldi sia già annoverato tra i maggiori festival nazionali, riconosciuto dal Ministero della Cultura, Regione Veneto, Comune di Venezia con la collaborazione dell'Istituto Italiano Antonio Vivaldi e della Fondazione Cini e anche della RAI che ne trasmetterà alcuni degli eventi più importanti, già dice di quanto questo progetto fosse atteso. Un programma vivacissimo che vede già tra i suoi primi protagonisti grandi conoscitori ed esecutori del repertorio vivaldiano a cominciare dai solisti veneti che da sempre hanno tenuto alta la bandiera della musica veneta nel mondo con un concerto dal titolo emblematico Vivaldissimo. E ancora Uto Ugi che chiuderà il Festival alla Scuola Grande di San Rocco il 21 ottobre al grido di Viva Vivaldi. E ancora orchestra suonatori della gioiosa marca, i solisti dell'Accademia Vivaldi della Fondazione Giorgio Cini, l'Orchestra Officina Musicum Venezia, le putte di Vivaldi oltre a grandissimi cantanti solisti. Musica, opere, cantate in un progetto che promette già dalla prossima stagione di indagare anche le opere di Vivaldi raramente eseguite in epoca contemporanea. Il Festival Vivaldi che nasce quest'anno a Venezia si propone di valorizzare tutto il suo enorme patrimonio musicale nelle più belle chiese basiliche e nei più importanti palazzi storici della città di Venezia. Vivaldi ha vissuto l'istituto per più di 40 anni ed oltre a il suo apporto musicale, la sua produzione che in parte e la maggior parte è nata qui, ha creato un percorso che poi ha segnato la storia di questo istituto. Attraverso i suoi insegnamenti è riuscito a dare un'opportunità a quelli che erano gli ultimi di Venezia nel 1700, orfani, abbandonati, figli illegittimi. Tutte le grandi città di Europa celebrano i loro compositori, la musica è sicuramente un messaggio internazionale universale e penso che quindi con questo Festival Venezia vada a trovare una sua completezza e a rendere sicuramente il dovuto tributo a questo grande musicista.